Alleluia, alleluia ! Cari amici di Valdo TV, oggi mi trovo a Quero nella sede del coro polifonico nuovo rinascimento. Qui con me la presidente Valentina Bertelle e il direttore Gilberto Meneghin. Gilberto, puoi parlarci brevemente del coro? Il coro nasce 30 anni fa e per affrontare un repertorio inizialmente rinascimentale poi con il passare degli anni abbiamo ampliato la nostra curiosità musicale quindi dal rinascimento arriviamo fino alla contemporaneità e siamo circa 25 coristi con una fascia d'età che va dai 16 ai 50 anni Valentina, qual è il motivo per il quale ci siamo incontrati qui oggi? Abbiamo pensato di aprire le porte a chi avesse voglia di provare un'esperienza corale e ci troviamo qui tutti i martedì, una volta appunto alla settimana, a far prove Qual impegno richiede partecipare al coro? Beh, partecipare al coro sostanzialmente richiede l'impegno di venire alle prove e per questo appello che noi lanciamo, che è proprio un invito a venirci a trovare inizialmente e poi se vi potrà piacere anche restare con noi possiamo considerare un periodo di prova di un paio di mesi per vedere se l'ambiente è proprio quello che ci si aspetta e poi se uno decidesse potrebbe entrare a far parte stabilmente del nostro organico non abbiamo nessun tipo di selezione, non facciamo nessun tipo di selezione e quindi l'accesso è totalmente libero Chiaramente le prove sono finalizzate al concerto noi effettuiamo solitamente 4-5 concerti all'anno E per chi volesse contattarvi, come deve fare? Potrete rivolgervi a me direttamente e posso lasciare un eurocapito telefonico che è 340-820-3947 Vi aspettiamo i nostri prossimi concerti e speriamo numerosi rispondiate al nostro appello Ringrazio Gilberto e Valentina Da Quero è tutto e noi ci vediamo al prossimo servizio Ringrazio Gilberto e Valentina